le accise più antiquate a ridurre così il prezzo del petrolio e del carburante soprattutto. Grazie. Grazie, onorevole Pisicchio. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Padoan, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Pisicchio. Come è noto, l'accisa costituisce una delle componenti del prezzo finale dei carburanti e concorre nella sua formazione, unitamente all'IVA, all'imposta regionale, limitatamente alla benzina e al costo industriale. Il prezzo finale dei carburanti è determinato dalle compagnie petrolifere. Ad una riduzione della componente tributaria non necessariamente corrisponde a una riduzione di pari valori del prezzo finale del prodotto. Come, d'altro canto, da un incremento della fiscalità non deriva un uguale aumento del prezzo finale. L'accisa è un'imposta armonizzata nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea. La relativa disciplina trova fondamento nelle direttive comunitarie che individuano i prodotti sui quali essa debba gravare. E le relative modalità di applicazione, inclusi i livelli minimi, al di sotto dei quali non è possibile fissare le relative aliquote. Nell'ordinamento nazionale i carburanti sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del Decreto 26 ottobre 95, numero 504, con l'applicazione delle specifiche aliquote stabilite dal medesimo decreto coerentemente alle previsioni del diritto comunitario. Gli aumenti di imposizione indicati dall'interrogante, finalizzati a reperire urgentemente nuove entrate tributarie per fronteggiare eventi calamitosi o improvvisi, erano riferite alle previgenti imposte di fabbricazione sui carburanti. Dalle imposte di fabbricazione, a partire dal 30 agosto 1993, sono state sostituite dall'accisa sugli oli minerali, attualmente disciplinata dal suddetto testo unico delle accise. Anche le aliquote di accisa sono state, successivamente al 1993, più volte rideterminate senza prendere a riferimento gli aumenti precedenti delle previgenti imposte di fabbricazione. L'onorevole interrogante giustamente mette in luce gli effetti negativi relativi all'aumento del costo dell'energia sulla competitività. Vorrei ricordare che nell'ambito del sistema nazionale dell'accisa è prevista una specifica agevolazione a favore degli autotrasportatori e di altre particolari categorie di operatori, consistente nel rimborso dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti dell'accisa sul gasolio sostenuti dagli stessi operatori per l'acquisto del medesimo prodotto. Considerato infine che la disciplina delle accise è armonizzata a livello europeo, si fa presente che l'incidenza fiscale accisa IVA pari al 70.3 per la benzina e al 69.3 per il gasolio. A titolo di confronto europeo, tra ultime rilevazioni a livello di unione monetaria, la componente fiscale sul prezzo pesa al consumo della benzina per il 67.8% e per il gasolio per il 63.5%. Grazie. Grazie, Ministro. Facoltà di replicare il deputato Pisicchio. Prego, onorevole. Io la ringrazio, signor Ministro, per la chiarezza con cui si è espresso. Tuttavia, vorrei dire che nel mese di gennaio noi abbiamo assistito a situazioni che ci hanno portato a verificare il costo di un barile di petrolio intorno a 25 dollari, un prezzo assolutamente basso, forse tra i più bassi negli ultimi decenni. Il prezzo del nostro carburante, invece, è salito del 30% negli ultimi otto anni. Il problema delle accise, in modo particolare di quelle antiquarie, è anche un problema, come devo dire, di ripulitura estetica di quello che è palesemente fuori dalla sensibilità del corpo dei consumatori. Non c'è una posizione di rifiuto pregiudiziale all'accoglimento del principio delle accise.